Mostra te a un gibo se vai La lunga strada è stata percorsa e battuta per arrivare sin qui a giocarsi tutto contro i più forti La Venere in Bichini ha la meglio su un grande Eurobet Palermo in semifinale ed approda all'atto conclusivo del torneo contro i campioni in carica del Checco dello Scabicoglio Siamo molto contenti, andiamo in finale e adesso cercheremo di vincere sia il campionato che la Coppa Italia La neopromossa dalle belle speranze diventa adulta e matura nella sera più importante il confronto con le squadre più esperte della massima serie compreso l'Eurobet in semifinale ha certificato un dato una nuova stella della serie A della Liga Calcio 8 è nata e punta a rimanere tale protagonista anche negli anni a venire Questa squadra ha le basi per fare bene per i prossimi 4-5-6 anni quindi io vedo il profeta, vedremo, chi vivrà vedrà Forse mai come nello scontro con il rosa nero però in alcuni momenti le gambe hanno tremato quando le colonne difensive ballano l'ultimo baluardo deve salire in cattedra il muro debano che risponde al nome di Manuel Opara sbarra la via, respinge l'assedio dei valorosi avversari e regala ai suoi la scienza attesa un anno Oggi è stata una partita difficile, era normale che l'Eurobet attaccasse sin dal primo minuto e infatti ho dovuto richiamarli all'attenzione perché se no queste partite alla fine le vado a perdere faccio il portiere quindi devo parare, col cognome Opara solo il portiere potevo fare infatti va bene così, ci godiamo questa serata La finale del 15 giugno sembra lontana ma è più vicina di quanto immaginiamo la Venere va a giocarsi le sue carte la grande Lega di quest'anno merita questa grande finale sarà la prima contro la seconda ci sarà da divertirsi, statene certi